Nell'ambito di un'articolata attività investigativa avviata su tutta la provincia etnea dal comando provinciale di Catania, congiuntamente alla direzione provinciale dell'Istituto Nazionale di Prevenzione Sociale di Catania e con il supporto dei militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro, i carabinieri hanno denunciato alla Procura Distrettuale della Repubblica 267 soggetti, ritenuti responsabili di aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza nell'arco temporale compreso tra il 2019 e il 2022. L'indagine, che trae origine da una mirata e approfondita attività di analisi sulle posizioni dei cittadini per settori di erogazioni pubbliche elargite dallo Stato, ha infatti consentito di documentare come gli indagati, ricorrendo a dichiarazioni mendaci o al contrario omettendo informazioni dovute, avrebbero ottenuto il sussidio senza averne diritto. Tre, in particolare, i modus operandi attraverso i quali furbetti avrebbero concretizzato le frodi nella provincia etnea. Il primo, che riguarda la maggior parte dei deferiti, si riferisce a coloro che nonostante fossero già destinatari di indennità di disoccupazione agricola, avrebbero evitato di dichiarare il reddito da lavoro dipendente, le cosiddette giornate di lavoro, situazione incompatibile per la concessione del reddito di cittadinanza o quantomeno utile per rideterminarne l'importo. Partendo da tale dato operativo, la platea di individui e le condotte illecite oggetto delle investigazioni si sono poi ampliate. È stato quindi possibile accertare, tra gli indebiti percettori, anche il coinvolgimento di 25 extracomunitari che incassavano il beneficio anche se non residenti in Italia da almeno 10 anni, a cui si sono aggiunte altre 50 persone circa che avrebbero comunicato dati incongruenti su composizione o capacità reddituale dei rispettivi nuclei familiari, ricevendo il reddito di cittadinanza in misura maggiore rispetto a quanto dovuto. Tra i 267 deferiti figurano circa 40 soggetti gravati da pregiudizi di polizia per reati che vanno dall'Associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e all'immigrazione clandestina, all'estorsione, rapina, riciclaggio, ricettazione, furto, truffa, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Presenti inoltre anche alcuni parcheggiatori abusivi e benundici appartenenti all'etnia seminomade dei camminanti di Adrano. L'importo complessivo riscosso indebitamente a vario titolo tra il 2019 e lo scorso settembre è di oltre 1.300.000 euro. Al riguardo l'Inps ha già revocato il beneficio con efficacia retroattiva a tutti i denunciati e avviato le necessarie procedure di restituzione di quanto illecitamente percepito. L'attività odierna è solo l'ultima delle azioni di contrasto avviate dai carabinieri sull'indebita percezione di denaro pubblico connessa al reddito di cittadinanza. Al riguardo i numerosi controlli avviati sin dal 2021 nella provincia di Catania, anche in collaborazione con il nucleo carabinieri spettorato del lavoro del capoluogo etneo, hanno infatti già consentito di individuare e denunciare ulteriori 640 persone che riscuotevano il sussidio senza averne diritto per un danno complessivo alle casse dello Stato nel triennio 2020-2022 di complessivi 5 milioni di euro. Tra questi era emerso come almeno 80 cittadini avessero personalmente richiesto e ottenuto il beneficio pur essendo gravati da sentenze passate, ingiudicato per i reati di associazione di tipo mafioso, oppure omettendo di comunicare che all'interno del proprio nucleo familiare vi fosse tra i destinatari del reddito di cittadinanza anche un proprio congiunto gravato da sentenze di condanna definitive per associazione di tipo mafioso.